Il bello, il brutto e il cattivo? Chi è il bello? Salvo il bello? E' cattivo lui, c'è la faccia cattivo Palleo? Si, si è Palleo. Si è toccato il brutto, Antonio, Antonio. Eccoli va, l'omini, i fantini futuri? Speriamo. Siamo da Andrea Amari, i cavalli li vedete sotto questo, ma che facciamo? Oh, ma questa è la più grossa che c'è in giro ora, c'è un mare di avalli, ma parlate eh! Palleo, sono 24. Sotto, come Speranza, sotto questa foto di Mari, che sembrava abbracci e mi porti nel suo... No, si dà gli scappazzoni! Ah, gli scappazzoni! Ah, si ve li dà! Sì, quanto ero? Quanto ero più? No, non più coglioni per niente. No, no. La verità Camillo si lavora bene, siamo tanti, ho tanti cavalli, ma si lavora bene. Si lavora se lì? Si è creato questo brutto. Si viaggia, si viaggia! Si cerca di arrivare agli appuntamenti propri al massimo della testazione e poi secondo me non è... Quando è in questa maniera è un nuovo lavoro, è un divertimento. Si. E al stesso tempo lavori, non te ne accorgi in mente. E' una cosa che le provi... cioè, non tutti hanno la fortuna di poterlo provare. Io mi reputo fortunato e penso anche loro. Com'è andata ieri? Antonio? E' andata! Antonio Mula? E' andata Camillo, com'è andata? Devo andare a me? Sì. Per essere il rientro mio e il rientro dei cavalli, dai, non è stato poi così male. Alla fine si è fatto una cosa più per vedere le condizioni. Però bene, una cosa che ci manda avanti. E ora, al prossimo appuntamento, si rientra forte come ieri. Di più. Di più? Dai. Luca, adesso lo va con tutti i tuoi cavalli. Si. Com'è questa decisione? E' stata... una bella decisione. Cioè, una decisione voluta perché era la cosa migliore che potevo fare. sia per gli insegnamenti che portarmi Andrea e per la struttura bellissima per lavorare i cavalli e per lavorare bene. E continuare a mettere da parte quello che posso imparare. Che ti ha fatto cambiare nel tuo modo di lavorare ad Andrea? Beh, per un piano tante cose. Il modo di lavorare i cavalli e molto differente da come lavoravo io. Poi anche qualcosino magari nel montare a cavallo e tante cose, tante cose. E quest'anno vorrei che hai il prospetto di fare. Di far bene. Di riuscire ad arrivare a tutti gli appuntamenti al massimo. E cercare di stare in me. Poi, anche bene, bene. Salvo, te hai abbandonato Tonino. Sai, Carmelo... Sei stato un po' fuori, vero? Vengo da un percorso sindaco che ho stato tanti anni con Tonino. Sono state cose belle, cose erudute. Ma comunque sia, sono cose che ti fanno esperienza. Era arrivato il momento di un attimino cambiare un po' di cose. E... A fine luglio... C'è stato, diciamo, questo stacco. E poi sono partito per la Francia. Sono andato a fare la stagione da Beppe per essere da Botti in Francia. Passa un po' l'inverno. E poi sono ritornato e sono subito al lavoro qui. Era presa questa decisione in un accordo anche con Andrea. E... Sapevo già che c'erano... C'era Antonio, c'era Luca. Però... Andrea e anche loro, devo dire... Abbiamo creato questo gruppo dove ognuno ha i propri appuntamenti. O cerca di guadagnarseli. Per chi non ce l'ha. E vediamo di andare avanti professionalmente. Perché comunque sia in Pari. Ci sono posti dove io magari, essendo primo a piandere fornaci, non era lo stesso lavoro di quello che faccio ora, sai. Sì, è vero, ti allenavi il pomeriggio, ma... Quando hai tutti i giorni una struttura del genere, a posti del genere, cavalli... Un maestro come Andrea che... C'è niente appuntamenti? Senti, ora... Però ci sono i più guadagnabili. Ancora, il terzo anno? Terzo anno... Terzo anno... E già... Madonna... E come quest'anno anche te che... Ah, io sono partito solo soletto e mi sono ritrovato in compagnia. No, però... Bene. Nessuna gelosia, nessuna inviga, grazie a Dio. Si lavora bene tutti. Ognuno ha il suo, si fa il suo e bene. Si va avanti, si allena tutti assieme, si fa compagnia, si fa forza fra tutti quanti e via. Poi si lavora proprio come una scuderia. Cioè se c'è un cavalli si trova meglio una persona, lo monta quello lì e poi si si lavora bene, via. Si lavora bene, via. Si è creato un gruppo e si lavora veramente a scuderia serie. Io ho avuto la fortuna di poterlo fare e credo che sono d'accordo anche loro. C'è proprio questa cosa. Ecco, è che... Lavora sempre anche io, lavorai solo, poi ti ritrovi ora in questo... Con degli avversari, fra virgolette, no? Nel futuro. Eh no, eh no, eh no. No, no, magari si monta, magari. No, perché se non ho voluto, ti sei fatico. La mattina, cioè, durante tutto quanto tutto il giorno, siamo parecchialmente, ci va d'accordo tutti. Un domani, logicamente, ci si trova in qualsiasi palio, ognuno farà il suo. Logicamente, il lavoro poi... Tanto funziona così. E te convivi ormai da diverso, eh? Sì, sì, sì. Non convivo, però... È a casa o a casa sua, c'è un bel rapporto anche familiare, no no. Non ci voleva, dai. Sì, sì, tante, con questo lavoro e... Eh, perché qui soli, però... Le giratte sono poche, sì che... No, no. È brava, mi vuole bene. Le vogliono bene... Va bene così. È il sigo o è lui? No, ha fidanzato anche questo. Ah, no, no. Il bello e me lo lasci sempre. Eh, il bello e il bello. Ti ha toccato il punto a te. Eh, mi ha toccato il sigo per troppo tempo. Sì, ora ci sei... Ho provato a rimanere. Ora si è accoppiato. Ma non ho fregato. Ma si sposa anche lui? No, non mi sposo. Quello che si sposa è lui. Eh, aspetta, aspetta. Sì, sì, quello, sicuro. Eh, oh! Eh, oh! Eh, oh! E noi siamo i nemici di tutti. E' un anno e poco più. Ti guarda le tassi? Eh, eh. No, dai. Bene così. Capito? Siamo... Per ora siamo contenti. E... Anche ieri, come diceva prima Antonio, c'è il corso. Siamo rientrati noi cavalli, che è fondamentale. Per vedere anche il punto di lavoro come si sta andando bene o meno. Io credo che come... A livello di scuderia non siamo andati male male. Perché comunque ci abbiamo portato a casa... Siamo all'indietro, scusi. Sì, tre terzi posti. Ma comunque siamo visti che quegli altri sono più avanti. Ma magari noi siamo... S'arriva in un periodo un po' più in là dove quegli altri sono un po' più in fase avanti. Speriamo noi di essere... Senti, te che ero? Senta che ero al corso ieri, è rientrato anche lui. Ha fatto un corsettino. Ho dimostrato di essere... Che... Cioè, anno dopo anno si continuano a crescere. Si è comportato bene anche ieri. Speriamo che vada meglio dell'anno scorso. Ma glielo fa portare anche a loro di tanto? Sì. Tutti i cavalli di studi. Bene girate, eh? Si montano tutti. Sia per noi che le dobbiamo montare, sia per loro che devono essere alla mano di tutti quattro. Beh, che vogliamo aggiungere? Il sogno è una buona domanda, Valer. Perché tanto... Sì, lo sai. Cerchiamo di conquistare gli obiettivi che uno ha, o che non ce l'ha tipo me, di guadagnarseli e magari da quando nascerò cosa non si sa mai. Com'è che lavorare con Botti? Botti è diverso, eh? Nel senso... Come a livello di gruppo no, è uguale. Il sogno meno...